signori buongiorno e benvenuti sul canale del mastercae io sono il mastercae e il vostro ospite su questo canale quando qualche mese fa ho fatto un video per celebrare il complanno del canale avevo chiesto come tutti gli anni a voi di farmi delle domande tra le domande che ne erano arrivate ce n'era una di pietro sgherzi che chiedeva come fare a organizzare una sessione di gioco ora quella è una domanda troppo lunga da rispondere all'interno degli spazi ristretti del video del compleanno quindi avevo detto che ci avrei fatto poi un video a parte in realtà quando poi mi sono messo a scrivere il video mi sono reso conto che un video solo non sarebbe neanche bastato quindi come avete visto al titolo questa è la prima parte del video tra due settimane vedrete la seconda parte quindi non perdiamo altro tempo e questa settimana andiamo a organizzare una sessione di gioco vabbè almeno ho fatto contenti quelli di mastercard shitposting facendo uscire il video prima alla fine dell'anno la prima cosa in assoluto che dovete fare è contattare tutti i giocatori per sapere chi sarà presente alla sessione e chi no fate un gruppo su qualche social in cui riunire tutti i vostri giocatori in modo da poter fare le domande in maniera collettiva e questo vi tornerà anche utile nel caso dobbiate fare degli avvisi o comunque discutere lo spostamento di una data o cosa del genere sapere quali giocatori saranno presenti e quindi quali personaggi parteciperanno alla quest è fondamentale ogni personaggio ha comunque una sua storia e un personaggio particolare potrebbe avere delle questioni in sospeso o dei temi che riguardano specificatamente quel personaggio che non avrebbe senso che voi prepariate e portate al tavolo se quel personaggio non è neanche presente cominciate a preparare le cose partendo da quelli che siete sicuri saranno i vostri giocatori nulla vi vieta di preparare materiale anche per dei giocatori che sono in forse ma dato che il tempo a disposizione di ognuno di noi è limitato procedete partendo da ciò che è sicuro per andare verso ciò che potrebbe essere mettiamola così se vi trovate a giocare di persona tutti intorno a un tavolo questo vi è anche indispensabile nel caso abbiate i giocatori che per qualche motivo abbiano delle loro necessità particolari qualsiasi cosa dal giocatore che è su una sedia a rotelle e quindi ha semplicemente bisogno di un po più di spazio al tavolo per farci stare la sedia al giocatore che sta giocando in telepresenza da Tokyo e che quindi ha bisogno di webcam, microfoni, schermi per poter interagire in mezzo agli altri ovviamente giocatori che hanno delle necessità particolari richiedono che organizziate fisicamente il tavolo in maniera particolare e anche questo è da considerarsi nei tempi di lavorazione ovviamente se non siete voi a ospitare i party non state giocando a casa vostra fate in modo che chi sia responsabile dell'ambiente che andrete a utilizzare che sia un locale pubblico che sia a casa di qualcun altro sappia se ci sono esigenze particolari e come deve comportarsi a riguardo una volta che sapete chi sarà presente al tavolo e avete risolto la questione logistica dovete cominciare a pensare a quanti sono gli incontri che dovete preparare lo vedremo poi nel dettaglio il prossimo video però in realtà il modo migliore che avete per regolarvi è l'esperienza personale ovviamente più è lunga la sessione più veloci sono i vostri giocatori più incontri dovrete preparare ci sono effettivamente delle linee guida che potrete utilizzare però è un argomento abbastanza lungo quindi ne parleremo poi nel prossimo video che vedrete la prossima settimana indipendentemente da quanti incontri avete deciso di preparare assicuratevi di avere tutto il materiale che vi serve per gestire quegli incontri sotto mano in un formato che sia di rapida consultazione io personalmente preferisco trascrivere i profili di tutti i mostri che ho intenzione di usare durante la quest volendo potreste anche prenderli magari direttamente dal manuale però molto spesso i mostri vanno modificati per adattarli al party e almeno nella mia esperienza personale mi capita spesso di dover utilizzare magari i più tipi diversi di mostri nello stesso incontro e questi mostri sono su tre manuali diversi riscrivere i profili tutti sull'unico foglio rende più immediata la consultazione preparatevi anche una serie di fogli su cui scrivere tutte le informazioni che ritenete di di dover utilizzare durante la trama magari i nomi dei png più importanti e magari alcune informazioni di background a riguardo appuntatevi magari i numeri di pagina dove sono presenti le regole che siete sicuri di utilizzare in quella sessione ma che magari avete paura di non ricordare in modo da andare a cercare più velocemente sì questa è una cosa da vecchio master nell'era tecnologia le cercate su internet col cellulare però io continuo a preferire i manuali cartacei per evitare di finire con una mezza dozzina di fogli volanti che rischiano di andare persi io poi prendo tutto il materiale che mi serve per una singola quest e lo metto dentro una sua cartellina specifica in modo che non vada perso poi perdo la cartellina a questo punto l'ultima cosa che vi rimane da fare è preparare il tavolo questa potrebbe essere la parte più lunga o più veloce a seconda di quello che avete deciso di fare assicuratevi di avere un posto al tavolo che abbia tutto lo spazio che vi serve per tenere la vostra roba compreso lo schermo per chi lo usa o i fogli che dovete usare assicuratevi di avere anche quello che vi serve proprio materialmente per condurre la sessione molto probabilmente basta una matita e una manciata di dadi o il loro equivalente in base al gioco che state usando che sia un mazzo di tarocchi per sinerequie che siano un mazzo di carte francese per avventure di prima serata dovreste anche produrre tutti i supporti che vi potrebbero servire per la conduzione del gioco questa è una parte che dovete valutare bene più belli e più ben fatti saranno gli handout che date ai giocatori più sarà alto il fattore wow e quindi aiuterete i giocatori non solo a immedesimarsi nella quest ma li farete sentire più coinvolti e aumenterete il loro interesse dei supporti fatti bene però richiedono tempo e abilità per essere fatti quindi valutate molto bene se merita la pena o meno di produrre qualcosa di particolare per quella specifica sessione normalmente però non vi serve strafare disegnare una mappa della zona che i giocatori dovranno esplorare in quella sessione potrebbe essere più che sufficiente magari aggiungete anche un paio di immagini evocative da mostrare ai giocatori per accelerare i tempi di descrizione e scegliete qualche musica ad effetto che possa suscitare le emozioni che volete durante momenti particolari scene particolari della sessione ovviamente a meno che non abbiate la necessità o la volontà di produrre qualcosa di effettivamente particolare per quella singola sessione nulla vi vieta di riciclare materiale che avete già preparato in precedenza le musiche probabilmente resteranno le stesse per tutta la dovuta della campagna ma anche la mappa del dungeon che avete disegnato per un'astronave e una quest di tre anni fa potrebbe diventare la mappa del sotterraneo nella quest che state svolgendo adesso i giocatori magari non saranno neanche le stesse o comunque non se la ricorderanno e tutto quello che vi basterà sarà variare la descrizione non il disegno che avete fatto che può essere riutilizzato così com'era diciamo che per questo video è tutto tra un paio di settimane vedrete la seconda parte di questo video che se tutto va bene starò montando nel momento in cui vedete questo settimana prossima invece per le fondamenta del dungeon recupereremo un altro video che avevo promesso che avrei fatto ma non avevo ancora avuto il tempo di fare dove vedremo come integrare la narrazione emergente a il railroad che è stato anche chiesto nei commenti come è possibile farlo perché sembrano antitesi che ne parleremo la settimana prossima per la fine dell'anno invece sto preparando un video speciale quello che ho detto in queste settimane dovrei ultimare la lavorazione fino ad allora comunque fatemi sapere come voi vi organizzate per le vostre sessioni come sempre se ci sono domande dubbi o perplessità scrivetene nell'area dei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao